Pan brioche, sofficissimo, dal cuore fondente, senza uova e burro, prepariamolo insieme. Versate la farina in una ciotola, unite il lievito e poco latte, mescolate, aggiungete lo zucchero e il resto del latte, aggiungete ancora lo yogurt, l'olio e il sale, mescolate e finite con l'essenza di vaniglia e la scorza d'arancia. Lavorate in ciotola e poi passate alla spianatoia, resistendo alla tentazione di aggiungere farina. Lavorate molto e quando avrete ottenuto una massa compatta ed elastica, riponete a lievitare fino a raddoppio, ci vorranno 2 ore e mezza, 3 ore al massimo. Formate una palla e dividetela in circa 12 panetti da 100 grammi. Schiacciate i panetti, formando dei dischi che siano più spessi al centro e posizionatevi un pezzo di cioccolato. Richiudete ogni disco, riformate delle palline e poi disponetele su una teglia leggermente unta, io ne ho scelta una in ghisa naturale, garantisce una cottura lenta e uniforme come quella del forno a pietra. Riponete ancora al caldo e lievitare per circa 30 minuti, spennellate con uovo battuto e cuocete per 35-40 minuti a 170 gradi. Il nostro pan brioche Riponete. Il nostro pan con lente della risBB tra mangiare, Grazie a tutti.